Ehi, bella gente! Pietro Spataro è qui presente! Caro Marco Mengoni, se mi stai visualizzando, ti volevo fare tantissimi auguri di buon compleanno che oggi compi 35 anni. Sei nato nel giorno di Natale, che è il 25 di dicembre, classe nel 1988. E io ti voglio ringraziare che quest'anno mi hai fatto un autografo e mi hai portato persino il disco con Materia Prisma, a Pietro con Affetto. E in più, ti volevo mostrare la mia maglia che frafiguri te, caro Marco. La canzone Due Vite, quello del tuo, dell'Official Video, è arrivato quasi a 100 milioni di visualizzazioni. Davvero, ti voglio fare un tantissimo applauso. Complimenti, caro Marco. Continua così, caro Marco Mengoni, che sei davvero il numero uno come cantante. Sono il tuo primo fan preferito da te. Ciao Marco, buon Natale e felice anno nuovo. E auguri ancora. E al prossimo video. Grazie a tutti.